Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV in apertura. Ci sono le nuove rassicurazioni sui vaccini AstraZeneca arrivate direttamente dall'EMA, l'ente europeo di certificazione del farmaco che durante una conferenza stampa questo pomeriggio ha spiegato non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi avversi, ma l'EMA sta conducendo un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici e sta valutando caso per caso le reazioni sospette. Dobbiamo fare un'analisi scientifica approfondita per dare una risposta sul vaccino. Prendiamo la situazione molto sul serio, per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi. Ad ora noi siamo fermamente convinti, dicono ancora dall'EMA, che i benefici di AstraZeneca superano gli effetti collaterali e attualmente non ci sono indicazioni di correlazione tra il vaccino e gli incidenti, ha aggiunto Koch, rappresentante, direttore esecutivo dell'ente europeo di certificazione del farmaco. Tra l'altro sono arrivate aggiornamenti anche sull'autopsia del caso di un italiano morto a Biella dopo la somministrazione del vaccino e sono arrivate conferme che la morte non è correlata proprio alla somministrazione di AstraZeneca. Ha parlato sullo stesso tema oggi anche il Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, che ha spiegato che ha fatto già il vaccino, non ha ragione di essere preoccupato. Ascoltiamo. I vaccini sono e restano la soluzione vera per uscire da questi mesi così difficili. Noi abbiamo piena fiducia nella comunità scientifica tutta, nelle agenzie regolatorie, nell'agenzia europea e in quella italiana. E auspichiamo che nel più breve tempo possibile l'EMA possa pronunciarsi per chiarire ogni dubbio e consentirci di ripartire. I vaccini sono e resteranno la vera soluzione a questi mesi così difficili che abbiamo attraversato. L'EMA ha già spiegato che la spiegazione definitiva e la conferma sulla possibilità di riutilizzare i sieri attualmente sospesi sarà ufficializzata nella giornata di giovedì. Nel frattempo continuano le altre somministrazioni in Italia, quelle dei vaccini Cipher e Moderna. Vediamo anche l'aggiornamento nazionale che ha portato a 6.883.000 dosi somministrate per oltre 2 milioni di persone vaccinate completamente. A livello di Friuli, Venezia e Giulia abbiamo raggiunto la quota di 157.782 somministrazioni sulle 199.000 a disposizione. Sul fattore AstraZeneca sono bloccate le 3.000 legate all'otto che era stato sospeso a livello nazionale. Continuano, come detto, le somministrazioni per gli over 80. Ci sono arrivate conferme che domani si aprirà il centro di vaccinazione di massa a Gorizia, giovedì anche a Tolmezzo e a Trieste. Per quanto riguarda poi le indicazioni su possibili defezioni rispetto alle prenotazioni, anche il Friuli Venezia e Giulia seguirà l'indicazione del commissario straordinario Figliuolo. Se avanzeranno delle dosi verranno vaccinate le persone disponibili al momento e queste saranno convocate presso i centri vaccinali con un SMS, la specifica arrivata a livello nazionale. Il Covid tra l'altro è soggetto, lo abbiamo raccontato soprattutto nelle ultime giornate, anche a colpire maggiormente i diabetici, gli obesi, le persone che hanno altre patologie e proprio per questo c'è l'appello da parte degli endocrinologi a vaccinare, a inserire le persone diabetiche tra le categorie prioritarie. Vediamo. Noi abbiamo preso, come allora sono Presidente dei Medici Endocrinologi, però tra le varie società scientifiche, non solo l'AME, la Medici Endocrinologi, ma anche la società italiana di endocrinologia, la SIE e con altre delle società, anche quelle di diabetologia, è stato dato dei messaggi importanti. Uno, che sarebbe importante fare la vaccinazione ai diabetici, che sono le persone fragili, e se eventualmente vi sono delle controindicazioni per alcuni vaccini, può essere indicato, ma se non è, a parte momentaneamente il discorso dell'AstraZeneca, il corso di valutazione, ma l'eventuale utilizzo dei vaccini RNA. Quindi vuol dire che eventualmente sia Moderna oppure il Pfizer, poi in pazienti fragili, potrebbe essere indicato. Abbiamo anche segnalato che i pazienti affetti anche da tiroiditi autoimmuni, che tra virgolette erano segnati nelle controindicazioni, la tiroidita autoimmuna è talmente frequente anche in Italia, è organo specifico, al massimo quello che determina una piccola infiammazione della tiroide che tende a funzionare di meno, non dovrebbe essere una delle condizioni di gravi immunodeficienze, eccetera. Ma noi consigliamo le vaccinazioni, quei vaccini che sono presenti, nel qual caso, come ha detto il Ministero della Salute, non vi fosse un paziente fragile con più patologie, eventualmente attendere magari l'utilizzo dei vaccini RNA, che quindi sia Moderna che il Pfizer. Quindi è molto importante, diciamo, la vaccinazione è l'unica che ti potrà permettere effettivamente il controllo della malattia, non dimenticando il distanziamento, l'uso della mascherina e tutti gli accorgimenti. Altra categoria che richiede priorità nelle somministrazioni dei vaccini è quella dei commessi dei supermercati, proprio per questo con una nota congiunta, CGL, CISL e Will chiedono alla Regione di inserire le categorie proprio tra i lavoratori e le lavoratrici che dovranno ricevere al più presto le dosi, perché impiegati a contatto con il pubblico ed esposti pertanto a maggior rischio. Questo è l'appello dei sindacati. Andiamo a vedere invece i dati relativi alle ultime 24 ore sul fronte contagio in Friuli Venezia Giulia. Ci sono stati 672 nuovi casi di positività a fronte di 3.658 tamponi effettuati per una percentuale del 6,54%. Crescono, ed è un nuovo record assoluto dall'inizio della pandemia, i ricoveri in terapie intensive sono 77, un numero mai raggiunto sino ad oggi, 530 invece i ricoveri negli altri reparti, 15 le vittime che portano il bilancio complessivo a 3.042, le persone in isolamento salgono a 14.167. E a proposito di ospedali, ospedali che non riescono più a gestire al meglio i ricoveri, stamattina siamo andati a vedere la situazione a San Daniele del Friuli per il quale, per il nosocomio della località collinare, i sindaci del territorio chiedono interventi e chiedono la massima attenzione da parte della politica regionale. Luciana Idelfonso ha ascoltato la sindaca di Treppo Grande. Il nostro ospedale, l'ospedale di San Daniele, ha fatto e sta facendo assolutamente la sua parte rispetto al Covid. Come sappiamo è un ospedale che di fatto è diventato ospedale Covid, a parte che per gli ambulatori e l'area materno-infantile, e risponde ai bisogni di salute Covid di tutti i cittadini del nostro territorio, ma anche di cittadini provenienti da altri punti dell'azienda. Per questo un grande grazie a tutti gli operatori sanitari che in questi mesi si sono davvero spesi. Il tema però è anche un altro. Abbiamo però un ospedale che sta attraversando una fase assolutamente critica, come non era mai capitato. Ci mancano sei primari, abbiamo delle problematiche organizzative non da poco, e quindi in questo momento i sindaci devono iniziare a ragionare su quello che sarà il futuro dell'ospedale nella fase post-pandemica. Come sarà l'ospedale di San Daniele quando avremo superato l'emergenza sanitaria? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare come amministratori locali, ma anche come comunità civile, e insieme agli operatori sanitari dell'ospedale stesso, perché è ora di iniziare a pensare ad un progetto per la ripartenza dell'ospedale. Noi abbiamo approvato all'unanimità in Assemblea dei Sindaci un ordine del giorno che è ricco di punti che si sono trasformati in domande per la regione e per l'azienda rispetto alle criticità dell'ospedale. Dobbiamo fare un ulteriore passo che è quello di pensare ad un progetto. È in fase di redazione l'atto aziendale, finalmente, e quindi dovremmo confrontare quell'atto aziendale con un progetto per il nostro territorio e per il nostro ospedale. Un ospedale che, ricordo, vanta la seconda chirurgia a livello aziendale. Il primo punto nascita degli ospedali di rete a livello aziendale, ma anche a livello regionale. Un ospedale che ha una chirurgia ortopedica d'elezione, che è un fiore all'occhiello dell'intera sanità regionale. Un pronto soccorso assolutamente efficiente. Tra l'altro abbiamo salutato il direttore che è andato in pensione recentemente, forse anche a causa della mancanza di una progettualità rispetto all'ospedale, e abbiamo davanti quindi delle sfide non da poco, che partono da un elemento fondamentale, che è la nomina dei nuovi primari, con particolare riferimento a quello di chirurgia, che è vacante ormai da molti mesi, e a quello di pronto soccorso. Perché un ospedale di rete per acuti, cioè un ospedale che risponde ai bisogni di salute della sua comunità di riferimento, ma anche alle emergenze, ha bisogno di una chirurgia strutturata, con un primario che sia in grado di gestire quelli che sono gli interventi programmati, ma anche gli interventi urgenti, e di un pronto soccorso altrettanto strutturato. Quindi queste sono le richieste urgenti che i sindaci devono portare avanti nell'interlocuzione con la Regione. A questo riguardo, il 18, cioè giovedì prossimo, ci sarà un'assemblea dei sindaci della Collinare, all'ordine del giorno, su richiesta del sindaco di Moruzzo, Albina Montagnese, ci sarà anche la trattazione proprio di questi temi, per cui a che punto siamo rispetto alle richieste che i sindaci hanno fatto la Regione ormai un mese e mezzo fa. Le richieste sono molte, ci attendiamo delle risposte. Risposte che sono arrivate proprio nel pomeriggio, forse le nostre interviste sono servite a qualcosa. Il Vice Governatore Riccardi a rispondere direttamente all'ospedale di San Daniele in tempi rapidi potrà contare su nuovi professionisti, proseguendo a garantire le funzioni che ha sempre svolto. Con l'avvio delle procedure selettive per la copertura dei due incarichi possiamo assicurare la direzione del Governo della struttura operativa complessa, con l'obiettivo, ha aggiunto Riccardi, di evitare significativi periodi di vacanza vista la valenza strategica per l'azienda. Si è quindi ritenuto di procedere all'indizione pubblica di selezione per titoli e al colloquio per il conferimento degli incarichi che avranno durata quinquennale con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine del periodo. Successivamente a questo garantiremo anche le necessarie risposte alla chirurgia. Ha concluso Riccardi. Ora andiamo in Veneto, dove anche in questo caso continuano a salire i contagi. Il dato di oggi è di 1901 nuovi positivi e 84 vittime. Il Governatore Zai al trend della crescita è evidente e si vede anche dal numero dei ricoveri. Sono stati riattivati altri reparti Covid negli ospedali veneti. Intanto che il dato del trend diciamo di ricrescita dei contagi è evidente. Lo si vede sia sull'incidenza quotidiana dei positivi sui totali dei tamponi. Lo si apprezza ormai purtroppo quotidianamente anche sui ricoveri. Vi ricordate che all'inizio avevamo più incidenza sui tamponi che presenza di ricoveri nelle ultime 24 ore. Quando si vedono 131 persone ricoverate in 24 ore insomma un warning deve comunque esserci. Apriamo la pagina di Cronaca. Tempo di bilancio per l'attività della Polizia Locale di Udine in Borgo Stazione. Una zona osservata speciale ricorderete la scorsa settimana l'operazione Multiforze di Polizia e Carabiniere proprio con l'ausilio della Polizia Locale Friulana. L'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani ha fatto il bilancio dell'attività. In giunta comunale una delibera riguardante la sicurezza. Di cosa si tratta? Abbiamo nuovamente approvato la convenzione con delle dite private per quanto riguarda il servizio di sorveglianza del territorio mediante le guardie giurate. Anche quest'anno il Comune di Udine è stato destinatario di un finanziamento da parte della Regione in particolare dell'assessorato di Pierpaolo Roberti. A differenza degli anni scorsi in cui però il finanziamento era di circa 150-160 mila euro. Quest'anno la Regione ha premiato il Comune di Udine con oltre 220 mila euro. Questo ci consente di fare una convenzione che avrà alla fine lo drattato di 12 mesi quindi dal 1 aprile fino al 31 marzo del prossimo anno. Un servizio che vedrà una pattuglia formata da due agenti a servizio della Polizia Locale a supporto della Polizia Locale in Via Roma e in generale nel quartiere delle Magnolie. Un'altra pattuglia invece opererà nei parchi della città e anche nella zona della Cavarzerani su richiesta del Comitato dei Residenti. Borgo Stazione è stato negli ultimi giorni osservato speciale anche da parte della Polizia Locale. Oltre all'ottima operazione effettuata dalle forze dell'ordine anche lì con il supporto della Polizia Locale da una decina di giorni abbiamo raddoppiato il personale e devo dire che i numeri sono molto importanti con decine di sanzioni per il livello di consumo di alcol con ieri un ordine di allontanamento quindi quella persona che ubriaca creava dei problemi non potrà più tornare in zona stazione altrimenti potrà essere oggetto di daspo devo dire che ci sono stati anche dei rintracci l'ultimo stamattina due rintracci di clandestini quindi c'è un grandissimo dispiegamento di forze e di energie e di competenze da parte della nostra Polizia Locale. Polizia Locale al lavoro anche a Pordenone cinque cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione di edifici e terreni di cui quattro con precedenti altri due sono stati invece identificati l'esito dell'intervento dei controlli effettuati in mattinata tutti i soggetti sono risultati irregolari in Italia ma senza fissa dimora gli agenti guidati dal comandante Massimo Olivotto hanno controllato due case abbandonate in via Richieri e in via Le Venezia e tre luoghi cittadini sulle quali c'erano state delle segnalazioni il centro direzionale l'Ex Fiera e la zona dell'Auditorium Concordia tutte le aree sono state poi messe in sicurezza e pulite da Gea la Guardia di Finanza di Pordenone invece ha denunciato sei persone per bancarotta fraudolenta milionaria e violazione della normativa antiriciclaggio si tratta degli amministratori e gestori di una società attiva nel settore delle edilizie bancarotta fraudolenta milionaria con annessi reati fiscali e violazione della normativa antiriciclaggio e quanto ha scoperto la Guardia di Finanza indagando su una società pordenonese operante nel settore dell'edilizia dichiarata fallita nell'ottobre 2018 il nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Pordenone ha denunciato i quattro amministratori che si sono succeduti nel tempo e altri due soggetti che di fatto gestivano l'attività dell'azienda gli indagati hanno determinato un aggravio del dissesto pari a circa 3 milioni di euro compiendo operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento della società astenendosi però dal chiederlo con grave colpa durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione del fallimento i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge erano stati tenuti in maniera irregolare e incompleta distraendo risorse finanziarie e beni immobili della società fallita a favore di altre realtà imprenditoriali per un importo complessivo di 1 milione e 900 mila euro anche attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti inoltre sono emersi pagamenti preferenziali nei confronti di altre società da loro stessi controllate per oltre 121 mila euro la società peraltro non aveva annotato in contabilità ricavi conseguiti per 1 milione e 200 mila euro mentre ammontano un milione e mezzo le fatture per operazioni inesistenti e a 804 mila euro l'imposta è evasa in un biegno il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto quindi il sequestro preventivo per equivalente per complessivi 804 mila euro appunto eseguito su disponibilità finanziarie e beni immobili riconducibili i quattro responsabili dei reati la capitaneria di porto ha bloccato una nave battente bandiera di Panama che è ferma al porto di Monfalcone per gravi irregolarità le principali convenzioni internazionali sul trasporto marittimo che ha portato gli ispettori ad emettere il provvedimento amministrativo di fermo si tratta di una porta rinfuse lunga 181 metri ormergiata nel porto commerciale di circa 21 mila tonnellate di stazza lorta sono 17 le deficienze delle quali 11 particolarmente gravi attinenti sia ad aspetti strutturali sia alle condizioni di vita a bordo ed ora andiamo a raccontarvi la storia di una parrucchiere che a Spilimbergo si è fatto capofila di coloro i quali non vogliono abbassare le saracinesche nonostante la zona rossa l'ha andata ad intervistare la nostra luciana del fosso in piena attività in piena attività esatto viaggio come promesso la mia protesta è questa lavorare viaggio perché secondo te queste chiusure sono insensate perché perché secondo la mia idea noi abbiamo un diritto al lavoro il diritto al lavoro purtroppo nel mio caso è fondamentale perché io non ho nessun'altra fonte di reddito quindi o lavoro per portare il pane a casa oppure che qualcuno mi dica come si può fare perché io conti non ne ho da poter accingere a questo è una questione di dignità allora prima che di lavoro assolutamente deve essere garantita la dignità a un uomo io non voglio far guerra contro nessuno io voglio difendere solo i miei diritti la mia dignità come garantisci la sicurezza ai tuoi clienti potete vedere voi stessi abbiamo il distanziamento da una cliente all'altra che è fondamentale abbiamo le mascherine abbiamo la visiera abbiamo le mantelline ogni persona la sua mantellina monouso abbiamo gli asciugamani come potete vedere imbustati singolarmente per ogni persona l'igienizzante il termometro tutto ciò che c'è abbiamo una macchina sanificatrice d'aria non so più che fare non temi l'intervento delle forze dell'ordine le multe loro faranno il loro lavoro siamo grati anche alle forze dell'ordine però loro mi devono garantire la mia dignità io non so più che fare nel settore c'è chi in questo periodo approfitta magari per fare il lavoro direttamente a casa delle clienti ecco questo l'ho visto io di persona colleghi nello scorso lockdown che ogni mattina si mettevano nella loro automobile e andavano io lavoro in sicurezza in un salone dove c'è tutto ciò che c'è bisogno da Spilimbergo a San Daniele un 2020 in linea con l'anno precedente nonostante la pandemia per il consorzio del prosciutto di San Daniele che conferma le attese del comparto alimentare nonostante una lieve flessione dell'export meno 6% il prodotto si è confermato uno dei principali protagonisti del settore alimentare italiano la produzione è stata di 2 milioni e mezzo di cosce avviate alla lavorazione provenienti da 54 macelli che trasformano la materia prima fornita dai 3.641 allevamenti italiani autorizzati dalla produzione totale la quota del 18% è stata destinata al mercato estero il restante 82 al consumo interno ed ora siamo pronti ad aprire la nostra pagina sportiva tornando sui campi della Bruseschi dove è in corso l'allenamento dell'Udinese e in collegamento per noi da lì c'è Lorenzo Pausa buon pomeriggio buon pomeriggio a te Davide un saluto anche ai nostri telespettatori preparazione dei bianconeri che hai ripresa proprio oggi pomeriggio un allenamento anche un poco più lungo del solito infatti è ancora in corso allora io approfitto per consentirvi di fruire anche di queste ultime immagini in un pomeriggio anche piuttosto piuttosto ventoso bianconeri che in questo momento stanno svolgendo ancora delle esercitazioni tecniche oggi subito un allenamento ad alta intensità per preparare quella che sarà la sfida di domenica contro la Lazio dove si cercherà di portare avanti questo trend positivo che vede i bianconeri avere conquistato nove risultati utili nelle ultime dieci partite e i Sarsi a 33 punti in classifica mettendo nel mirino squadre come Hellas, Verona e Sassuolo non ci sono particolari novità per quanto riguarda la composizione di questo gruppo che oggi si è allenato Okaka e Forestieri quindi regolarmente assieme ai compagni chissà che con una settimana di lavoro in più non possano offrire a Mr. Gotti un'alternativa ulteriore nel reparto offensivo che già comunque sta facendo molto bene con l'impiego del Tucupereira sulla tre quarti alle spalle dell'unica punta gliorente continuano invece ad allenarsi a parte sia Thomas Oujan alle prese con un problema al piede sinistro che Gerard Deulofeu che invece deve fare i conti con un fastidio al ginocchio per entrambi lo staff medico si continua a riservare di effettuare le proprie valutazioni giorno per giorno considerando anche che dopo la gara contro la Lazio c'è la sosta e quindi ci sarà tutto il tempo per riportare entrambi i giocatori al top della forma uno sguardo anche all'avversaria di turno ovvero la Lazio che ha anche l'impegno di Champions League prima di venire qua a Udina ad affrontare i bianconeri una sfida molto probante per gli uomini di Simone Inzaghi che domani nel quarto di finale contro il Bayern Monaco sono chiamati a una mission impossible di cercare di ribaltare il 4 a 1 dell'andata chissà che questo impegno non vada a togliere energie preziose alla squadra bianco celeste che in campionato non sta vivendo un momento particolarmente facile e quindi l'udinese è forte anche di quella che era stata la bella vittoria dell'andata cercherà con tutte le proprie forze di andare a strappare un altro risultato positivo che la porterebbe veramente molto molto vicina ai 40 punti la preparazione dei bianconeri ora prosegue nei prossimi giorni con i bianconeri che da mercoledì a venerdì si alleneranno sempre al mattino alle 11.30 grazie a te grazie grazie a lorenzo pausa per quanto riguarda la serie b invece che oggi torna in campo per il turno infrasettimanale il pordenone ha comunicato che nel corso degli ultimi controlli effettuati stamani sono stati riscontrati tre ulteriori casi di positività al covid-19 tra i membri del gruppo squadra che portano il totale degli atleti contagiati a 5 gli stessi seguiti ora dall'azienda sanitaria di competenza si legge nella nota della società neroverde sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali la società d'intesa con le autorità sanitarie ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo la squadra si trova già a Empoli in vista della gara di stasera con fischio di inizio alle 19 valida per la 29esima giornata tuttavia vista l'evoluzione delle ultime ore cresce la preoccupazione nel club friulano e saranno effettuati ulteriori controlli per capire se il focolaio si è allargato e se sarà chiesto il rinvio del match qualora si raggiungessero gli otto calciatori positivi vi ricordiamo poi gli appuntamenti con la nostra programmazione tornerà allo sport il basket stasera in prima serata con basket a nord-est con Massimo Campazzo e tutti i suoi ospiti per vederli e naturalmente l'appuntamento è all'ora 21 Giacomo Galanda Gianluca Basile Giovanni Vildera Roberto Premier Massimo Jacopini Nazareno Italiano e Leonardo De Biase per parlare di tutte le società di Serie A1 e Serie A2 del nord-est per quanto riguarda invece l'informazione l'appuntamento è all'ora 19 con il nostro TG Serale buona giornata TG Serale e alla prossima alla prossima Grazie a tutti.